Allora, se vogliamo parlare della musica di pratica popolare in Appennino, possiamo cominciare da che cosa succede oggi, che mi sembra molto interessante. Allora, attualmente la situazione dei paesi dell'Appennino è comunque estremamente esemplare. Per esempio, in solo Monchidoro esistono 18 gruppi musicali, calcoliamo che Monchidoro ha qualcosa come poco più di 3.800 abitanti. Solo questo dice quanto forte sia la pratica e l'aggregazione attraverso la pratica musicale. Ma la cosa che sorprende è la pratica di ballo, soprattutto, che è alla base di tutte queste pratiche musicali. Che in questo momento i giovani ballino l'hip hop piuttosto che ogni sorta di altra cosa, ciò non toglie che comunque ballano. E ci sono quindi delle pratiche differenziate per generazioni, naturalmente, per cui le generazioni superiori ai 40 anni circa si trovano, ballano il liscio, gli anni 60 e anche i balli staccati, cioè i balli antichi montanari, secondo un criterio che esiste ormai da 40 anni, cioè le orchestrine di suonatori devono suonare quello che la gente balla, quindi suoneranno tre, quattro lisci, qualche ballo di gruppo adesso, tutte queste cose e qualche ballo antico montanaro. Poi esistono una serie, gruppi di persone che mantengono la pratica del ballo antico montanaro, che è in realtà molto complessa, cioè non è di facile approccio, nel senso che ha 51 coreografie di cui alcune sono semplicissime e chiunque può ballare, e sono i balli per far festa. E poi ci sono una serie di danze che sono danze di estrema abilità, con un'estrema competenza nel movimento. Ora, siccome i giovani non sono più abituati a fare attività di movimento quotidianamente come un tempo, risultano ancora più difficili da eseguire. Un tempo i ragazzi, come dei caprioli dicevano, saltavano di balzo in balzo, di rupe in rupe. Ora, questi, se fanno una cosa del genere, si imbalzano giù dalla rupe e quindi chiaramente è solo questo, è uno dei motivi per cui la pratica del ballo montanaro anche ai giovani oggi è in visa. Quindi c'è questo strano fenomeno per cui i ragazzini, i bambini, che lo imparano da bambini, da piccoli, sono bravissimi. Verso i 14-15 anni, quando devono cercare di omologarsi, soprattutto il problema è che vanno a scuola a Bologna e quindi giustamente devono mimetizzarsi il più possibile, questa pratica decade. Quando hanno, ritornano, ritorna a casa, versi 25-27, eccetera, molti di loro, guarda caso, riprendono per poi riprendere quando hanno loro a loro volta dei figli a cui vogliono trasmettere questa cosa. Quindi il ballo popolare in questa zona dell'Appennino, cioè nelle valle del Samena, è ancora rimasto come icona della propria appartenenza e del proprio linguaggio in comune con gli altri. Nelle altre valli dove esisteva parimenti, non è rimasto così forte perché queste valli sono state più toccate dai vari passaggi. Altre forme di cultura musicale tradizionale qui sono il canto, che è straordinario e mai sufficientemente studiato perché presenta una forma sia di monodia ma anche di polifonia estremamente complessa che non è assimilabile alla polifonia del nord Italia, ma di fatto è una polifonia centroitalica particolare e che purtroppo l'avvento dei cori ha di fatto fatto in qualche modo venire meno e cadere l'avvento dei cori che è avvenuto dagli anni sessanta in poi. Precedentemente c'erano queste voci a distesa che si intrecciavano riempiendo il continuum sonoro in modalità improvvisata e con melodie sovrapponentesi. Chiaramente l'avvento dei cori li ha trasformati in movimenti a due, tre, quattro voci paralleli o comunque con modalità estrane. Altre forme sono il canto di tipo rituale che compare nelle forme paraliturgiche, processioni e cose di questo genere, nel canto del maggio di cui esisteva anche la versione drammatica che però è scomparsa negli anni anni sessanta, settanta, tranne qualche ripresa episodica successiva.